Briantea è uno spazio in cui può muoversi con un po' più di autonomia e con i confini forse anche un po' più larghi di quelli che gli consente la famiglia e la cerchia parentale. Si con difficoltà diverse dalle sue e impara a rapportarsi anche con chi non ha dialogo, non ha la parola, piuttosto che con tutti. Sto cercando di lavorarlo questo concetto, non c'è una differenza, una difficoltà che fa la differenza, non so come dire. La difficoltà non fa la differenza, forse questo è il concetto e riusciamo anche a superarla la difficoltà, certo con l'aiuto, con il sostegno, con allenatori, volontari e tutta la rete di sostegno e di guida che viene data a questi ragazzi, ma poi il loro materiale se li devono gestire in autonomia e così fa anche a casa.